benvenuti in un nuovo video di quadricottero news su questo canale pensavo di non parlare di chat gpt e invece eccomi qua a parlare di chat gpt per fortuna in modo molto positivo per quanto mi riguarda infatti in 10 anni di vita di quadricottero news è la prima volta che mi accade una cosa del genere e cioè ho ricevuto una contestazione per violazione di copyright e devo dire che la cosa mi ha stupito perché da sempre io sono molto attento ai diritti di copyright perché io stesso sono stato oggetto di episodi in cui hanno prelevato le mie foto e i miei contenuti e sono stati ripubblicati senza citare la fonte come previsto dalla licenza creative commons a cui è soggetto il mio sito per mia scelta quindi qualsiasi persona può ripubblicare i miei contenuti di importante che ci sia l'attribuzione a quadricottero news comunque ieri con mia sorpresa ho ricevuto questa email dove mi viene detto che una società che è leader nelle fotografie stock e ha scoperto che su quadricottero news c'è una foto pubblicata senza aver ottenuto i diritti di pubblicazione ovvero senza aver pagato le royalties praticamente un articolo di otto anni fa come mai hanno scoperto soltanto adesso che c'è questa foto semplice perché ormai tutte queste società di foto stock hanno dei software che vanno a setacciare in rete le foto che sono state pubblicate senza licenza secondo loro e così questa società ha individuato la foto che ho pubblicato in questo articolo devo dire che comunque i toni sono abbastanza amichevoli però sono stato invitato a contattare la rappresentante legale di questa azienda per avere ulteriori dettagli e così ho indagato in rete e ho scoperto che non rispondere a queste email facendo finta di niente anche se questa è un'azienda americana e io sono italiano comunque comporta può comportare delle conseguenze non rispondere e ignorare secondo quanto ho trovato in rete ci sono dei consulenti legali che consigliano di rispondere magari avvalendosi dalla loro consulenza ovviamente a pagamento e ovviamente lo dicono anche perché hanno così hanno un riscontro economico i consulenti ma ho anche letto pareri simili da persone non interessate economicamente e viene consigliato comunque di rispondere e così mentre pensavo a come muovermi mi è venuto in mente che potevo provare a chiedere a chat gpt siccome in tanti dicono che chat gpt ruberà il lavoro a tante professioni intellettuali come ad esempio avvocati e consulenti giornalisti e via dicendo ho detto vabbè proviamo a chiedere a chat gpt giusto una prova senza nemmeno tanta convinzione infatti ho anche scritto così di fretta allora ho detto a chat gpt agisci come un legale gli ho spiegato cosa mi è successo ho ricevuto la seguente comunicazione scrivi una risposta adeguata in inglese dicendo che abbiamo ricevuto l'immagine allegata ho fatto anche un errore a un comunicato stampa e che pensavamo che i diritti fossero stati assolti nel dubbio e a seguito dalla comunicazione abbiamo deciso di rimuovere l'intero contenuto ecco la comunicazione che ho ricevuto ho detto a chat gpt cosa mi ha scritto la rappresentante legale di questa azienda e gli ho chiesto appunto di darmi un parere su come rispondere nel frattempo avevo anche provveduto a rimuovere quel contenuto e quella foto perché si trattava di un comunicato stampa ecco perché non mi ero accorto della cosa perché ho ricevuto un comunicato stampa con allegata a quella foto e io pensavo che fosse tutto a posto dal punto di vista dei diritti quindi non ci ho più pensato a distanza di otto anni come abbiamo visto è arrivato il problema di copyright e così chat gpt tra l'altro la versione 4 a cui ho avuto accesso grazie a una vpn infatti il blocco italiano è un po' una specie di barzelletta perché chiunque può accedere a chat gpt tramite una vpn ma questo è un altro discorso chat gpt mi ha scritto la comunicazione l'email che devo mandare con anche il titolo del soggetto infatti sopra leggiamo che c'è scritto risposta alla richiesta sulla violazione di copyright dell'immagine e come vediamo mi ha scritto anche la risposta che devo inviare tra l'altro formattata diviso in paragrafi fantastico con un linguaggio formale come se l'avesse scritta un legale vediamo il messaggio tradotto che mi ha suggerito di scrivere grazie per averci contattato in merito all'uso di una delle immagini di questa società sul nostro sito web apprezziamo i vostri sforzi per garantire un'adeguata licenza dei contenuti visivi e comprendiamo l'importanza di rispettare i diritti dei creatori di contenuti desideriamo informarti che abbiamo ricevuto l'immagine in questione come parte di un comunicato stampa e avevamo l'impressione che tutti i diritti necessari fossero stati autorizzati tuttavia alla luce della vostra comunicazione ci rendiamo conto che potrebbe esserci qualche ambiguità sullo stato della licenza dell'immagine per eccesso di prudenza abbiamo deciso di rimuovere immediatamente l'intero contenuto contenente l'immagine dal nostro sito web ci scusiamo per gli eventuali disagi causati e apprezziamo la vostra comprensione se avete ulteriori dubbi o bisogno di ulteriori informazioni da parte nostra non esitate a contattarci ci impegniamo a rispettare i diritti dei creatori di contenuti e a garantire il rispetto di tutte le linee guida pertinenti in materia di diritti d'autore e licenze distinti saluti chat gpt mi ha anche mostrato come firmarmi quindi nome mio titolo e la mia azienda fantastico in pratica è come se avessi chiesto ad un avvocato esperto di diritto statunitense sul copyright un testo che mi ha assolutamente convinto e che ho inviato anche se all'inizio ero scettico quando ho fatto la richiesta già a chat gpt l'ho fatta più per gioco che per convinzione però la risposta mi è piaciuta tanto tanto che infatti l'ho inviata e oggi l'azienda mi ha risposto e cosa mi ha risposto mi ha risposto che il caso è stato chiuso la mia risposta anzi la risposta di chat gpt è stata assolutamente convincente che comunque era vera e le cose sono andate esattamente come scritto da chat gpt e questa azienda è stata comprensiva devo dire quindi nessuna aggressività da parte di questa azienda è stata molto comprensiva ha capito le mie ragioni ha capito che si è trattato di una cosa non voluta una sorta di errore e così ricordandomi che usare un'immagine con una licenza valida è importante per qualsiasi business online mi ha appunto detto che il caso è chiuso e quindi ha posto così grazie chat gpt sicuramente questa azienda era predisposta ad essere amichevole tuttavia se io non avesse risposto avrebbe potuto incapponirsi e vedere la mia no risposta come un'azione ostile e quindi poteva continuare a procedere con le sue richieste che magari nei confronti di un italiano avrebbero comportato poco però non si sa mai e quindi chat gpt è diventato il mio legale di fiducia dopo questo accadimento ora non voglio entrare nel merito di chat gpt se dà più benefici se dà più controindicazioni se fa perdere lavoro se funziona se non funziona questo è il mio caso è la mia esperienza e ho voluto raccontarvelo in questo caso per me chat gpt è stato estremamente utile perché mi ha scritto proprio tutto quello che dovevo dire a questa azienda senza rivolgermi a un esperto legale in grado di comunicare in inglese con la giusta forma come abbiamo letto chat gpt ha scritto con la giusta forma ed è stato estremamente efficace infatti il caso è chiuso bene è chiuso anche il video fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti se avete già provato chat gpt cosa ne pensate dell'intelligenza artificiale in genere soprattutto con gli sviluppi previsti per i prossimi anni vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ciao a tutti e buona pasqua da quadricotteronews